Terribile incidente mortale tra due moto, poco dopo le 13, sulla Litorania che collega Alguero con Bosa, a poca distanza dalla spiaggia della Speranza. A perdere la vita Riccardo Del Rio, 47 anni, di Macomèr, e Gianluca Valeriani, 67 anni, di Stintino. Nello scontro ferita anche una ragazza di 14 anni che viaggiava a bordo della moto del padre, il 47enne di Macomèr. La giovane è stata trasportata d'urgenza dall'Elisso Corsa all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Ferito anche il conducente di una terza moto che, per evitare l'impatto con i due mezzi coinvolti, è finito in cuneta. L'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Alguero. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia stradale di Sassari, che ha eseguito i rilievi del caso, e i vigili del fuoco di Alguero.